Benvenuti al match dell'EAFC Russia Stadium! 3, 2, 1... È iniziato il match! Viene avanti per vie centrali! Si oppone alla conclusione! Buona lettura qui! Il portiere devia in calcio d'angolo! Corner battuto colpo! Para senza problema! Provano a ripartire! Si libera con un numero! È un muro! Scarica nella zona centrale! C'è la tuscia! La mette in zona centrale! Apertura sballata! Si fa soffiare le palle! È spagna! Si devono passare a condurre! Opta per il rinvio! Pass! Pallone intercettato! C'è spazio per la ripartenza! Ottima posizione qui! Non ha inquadrato il bersaglio! Il pallone è uscito! Tutto facile per il portiere! Fischia l'arbitro! C'è fuori gioco! Palla di nuovo in gioco! Apertura sballata! Paggio pesante! E uno contro uno col portiere! Cerca il palo più vicino! Portiere sugli scudi qui! Provano a rompere l'equilibrio dal corner! La gioca in area! Nuovo possesso! Possono giocare di rimessa! Non può sbagliare! Blocca il portiere! Muove palla dalla difesa! Prova a rendersi pericoloso! L'arbitro assegna il calcio d'angolo! La spedisce in area! Spenta la minaccia! Si propone centralmente! L'estremo difensore risponde presente! Si portano avanti grazie a questa rete! Si torna a giocare! Si torna a giocare! Trova l'imperaggio! 1-1-1! Ho trovato il gol dell'1-1! Attacca per via centrali! Palla che esce di parecchio! Palla in gioco! Hanno l'opportunità di ripartire! Attento qui! Interrompe l'azione! La mette in calcio d'angolo! Graal recupero qui! Ha una grossa chance! Se ne è andata a metà gara! Contrasto deciso! Vantaggio avversario! Scongiura! Corner battuto corto! Occhio qui alla possibile ripartenza! Prende la corsia centrale! Si portano avanti grazie a questa rete! Il risultato dice 2-1! Prova la traccia interna! Il Puglione completamente sballato! Scarica nella zona centrale! Contrasto vincente! Ha battuto il proprio portiere! Si riparte! Possibilità di colpire in contropiede! Viene avanti per via centrali! Era oltre l'ultimo difensore! Offside! Si gioca! Muove palla dalla difesa! Passaggio nella zona centrale! Prova a tenere vivo l'attacco! Si oppone con il corpo! Interrompe la trama avversaria! Prova a rendersi pericoloso! Non ha inquadrato lo specchio! Rimbia corto! Hanno la chance per passare a condurre! Abbiamo la chance per passare a condurre! Che examino lo specchio! Qui to Alpha! Mi a roda calta! Am presente i con dei squadron madri! Men da Hindalini! Qui to 90 oscola! E, ma attacare a condurre! E, ma attacare a condurre! Il disg Sindici ha la chance per passare! 'dara caocelli che con cai! Grazie. Ancora dieci secondi. Si chiude sul 2 a 2. Tempi supplementari. Si gioca l'extra time. Possesso perso nella generale 4. Possibilità di colpire in contropiede. Il campo è finito. Interviene e ferma tutto. ду Alla comunità legale. La generale di giardosi unèces, il campo è giunto un task op裂. In vent很 1400 giovani, x' viia prega la néi, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pallone messo fuori. 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 Pallone messo fuori.